Io comincerei, Matteo, proprio da veramente il fuoco che c'ha questo bambino Federico e di tutti i bambini del tuo film, perché in questa circostanza credo tu sia riuscito a ottenere da loro veramente una grande prestazione d'attore. Sì, sì, sì. Beh, io amo lavorare con i bambini, perché non sai mai quello che accadrà e quindi c'è sempre qualcosa da imparare. Federico ha avuto una grande generosità perché si è messo completamente a servizio del personaggio e ha fatto una specie di matrimonio tra Federico e Pinocchio. Pinocchio per certi versi è un personaggio molto lontano da Federico, perché Federico ha una grandissima forza di volontà, disciplina, senso anche del sacrificio, tutte cose che Pinocchio, come sappiamo, non ha. Però è anche un bambino di otto anni, quindi ha anche un candore, un'ingenuità che in qualche modo lo legano al personaggio di Pinocchio e su cui abbiamo centrato, diciamo, la parte più importante della sua interpretazione, quel candore, quell'ingenuità, quella parte di purezza che il personaggio di Pinocchio ha. Con Roberto invece abbiamo fatto un lavoro di scoperta anche proprio delle origini di Roberto, del mondo contadino. Abbiamo fatto una trasformazione anche fisica, quindi lui ha accettato coraggiosamente di trasformarsi, di cambiare la sua immagine, no? E per ritornare come indietro nel tempo, indietro, fare un viaggio nel, così, indietro verso i suoi avi. Roberto, a proposito di questo, oltre che agli avi, in qualche maniera anche a Televacca, non so, ecco, in quelle stalle, in quelle ambientazioni. Eh sì, come no, c'è il mondo contadino, quello è proprio l'ottocento italiano, dove era tutto agricolo, contadino, il rapporto con gli animali, con la povertà, con la semplicità. Il fango, gli escrementi, qualsiasi cosa, certo, certo. Però, no, non in questo Pinocchio, quella Televacca era un'altra cosa, quella era proprio una cosa proprio... Invece qui c'è una dignità, c'è una pulizia, nel film c'è la povertà, però quella povertà quasi sacra, divina, quella bellissima, la madre di tutte le ricchezze, insomma. Infatti è una povertà che fa avvenire dei miracoli. Poi c'è un divertimento incredibile, si sente che sta accadendo qualcosa di fiabesco nel film, fin dall'inizio, è come quando si sente una musica, ecco che arriva poi in più, c'è una colonna sonora mirabile, i costumi e le scene sono straordinari in questo film, gli attori da Ceccherino e Papaleo ai Gigi Proietti, insomma, è tutto una... Questa è una cosa, insomma, che è un film davvero memorabile per tutti, per i bambini e per i grandi, proprio dagli 8 agli 80 anni sono tutti proprio... è un film meraviglioso rivolto a loro. Roberto, e c'è soprattutto uno che è padre a sua insaputa, praticamente, come capita a qualcun altro, magari per altre cose, perché questo è un padre a sua insaputa, un po' come Giuseppe, no? Eh sì, è il padre più famoso del mondo, lui è San Giuseppe, ma è diventato Geppetto, quasi più famoso di San Giuseppe, tra l'altro Geppetto è la contrazione di Giuseppe, quindi è Giuseppino, Geppetto, Giuseppetto, insomma. Che dono è una paternità a quell'età, secondo te, Roberto? Beh, quello è proprio un dono divino, è proprio un dono divino, perché sono due padri adottivi entrambi, e non c'è nessuna differenza tra un padre adottivo e un padre naturale, è proprio il padre, quello è proprio il padre, il padre è come nostro Signore, è la figura del padre, proprio quello che costruisce tutto il mondo, è un po' proprio come il libro della Genesi, è proprio lui che fa suo figlio, se lo costruisce, ha sua immagine e somiglianza, gli scappa di casa, sono delle avventure meravigliose, proprio quelle di un padre, è proprio il rapporto, una storia d'amore tra un padre e un figlio, quindi ci siamo basati noi soprattutto, proprio nei sentimenti di tutti i padri. Federico, chi è stato più padre? Matteo o Roberto? Beh, allora, sono stati tutti e due dei padri, perché Matteo è stato il padre che mi dirige, praticamente che mi diceva, tu devi fare questo e quello, per la scena, quello là di venire così, vabbè, che nemmeno tante cose mi dicevi perché comunque mi dicevi più di essere spontaneo. Invece Roberto era più un padre, più un padre padre, tipo, tipo un padre, un padre padre. Un padre padre. Eh, un padre padre, perché... E lui è un padre regista, è un padre padre. Io ero nascosto, perché era con la statuetta dell'Oscar, Roberto ti ha fatto vedere. E non l'hai mai venuto a casa mia? Beh, non lo so. Una volta devi venire. Eh sì? Sì, sì. E facciamo la cerimonia. And Oscar goes to Federico Ialapi, e te la diamo. Comunque, sì, quello di chi è il padre, allora, Matteo, Matteo è il padre che mi dirige su 7, e lui è il padre più un po'... Padre padre. Più amorevole. È il padre regista. È carino. Ma grazie, grazie. Grazie, grazie molte. Grazie a voi.